Benvenuto nel mondo del domani! Perché devi dirla sempre così? Il pathos è il mio boss e resti internos! Vieni, il tuo destino ti attende! Ciao e buon futuro! Che fissa, sembra di vedere sta... Buongiorno, signore! Nome? Fry! Io sono Layla, siccome oggi è l'ultimo dell'anno, vorrei decidere in fretta il suo destino e squagliarmela! Posso farle una domanda? Basta che non si tratti del mio occhio! Si tratta del mio occhio? Si tratta! Cliccami questa domanda! Perché è uno solo? Semplice, sono un'aliena, contento ora, chiuso il discorso! Che forza, un'aliena! Avete conquistato la Terra? No, ho un contratto a termine! Ehi, un momento! È affidabile il dirigibile? Sì, è il 31 dicembre 2999! Mio Dio! Parecchie decinaia di anni! Già, posso immaginare che per lei sarà stato uno shock! Sì, è vero! Dovrebbe esserlo, però... Sono contento! Sì, non rimpiango niente della vecchia vita! Ero sempre al verde, avevo un lavoro umiliante e avevo dei sospetti che la mia ragazza cominciasse a tradirmi! Se non altro qui sarà trattato con dignità, adesso si sdrai nudo sul sondulatore! Oh! Sorprendente! Dall'esame del DNA risulta che lei ha un parente e il suo pro-pro-pro-pro-pro... Pro-pro-pro-pro-nipote! Prodigioso? E qual è il suo nome? Professor Hubert Farsworth. Sono il ragazzo più fortunato di tutto il futuro. Ho avuto una seconda chance e questa qui non me la brucio, non diventerò un fallito. Che cos'è? Le abbiamo assegnato la professione. Carriera fattorino? No, un'altra volta! La prego, qualcos'altro? Giù le mani. Come per gli altri, le è stato assegnato il lavoro più consono alle sue capacità. E se rifiutassi? Verrà scaricato. Evviva! Con un cannone al centro del sole. Ma non vale, non mi piace fare il fattorino. Peggio per lei, ha tanta gente, non piace il lavoro che fa, però lo fa lo stesso. Bisogna fare quello che bisogna fare. Ora mi dia la mano. Le impianterò il chip della carriera e sarà etichettato per sempre come fattorino. Non voglio essere timbrato! Dannazione, fermati! Sì, non ho la percezione della profondità! Conterò fino a cinque e tu mi farai uscire! Uno! Stavolta dovrai chiudere un occhio! Mi devi un favore? Un favore! Un favore! Sì! Sì! Un favore!